musica 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 oh e' eliminato ma anche i controlli a Napoli uai c'è 7 siti ma fa pensare la di una ci metà molto di 40 euro ma fa pensare ma non è sì sì ma c'è 20 euro ma non è sì sì ma c'è 20 euro ma c'è 20 euro ma c'è 20 euro ma non è sì sì però che fa 40 euro ah uai vici mi e' venuta una grande idea vici mi e' venuta un'ambigenia stiamo a sentire stiamo a sentire noi facciamo una bella cosa no a questo punto loro mi hanno fatto molto bene fatti che l'interno tu mi hanno fatto rotto tutti i pomeriggi che sta sempre là dentro no ma non lo sai che facciamo e abbiamo in questo punto prendiamo due biglietti e li ripriamo a un certo punto vieni chissi fa biglietti e biglietti e noi prendiamo un attimo solo e li facciamo vedere no prendiamo e mettiamo in mente la sacca e diamo i biglietti e dice guarda che posso tagliare a te i biglietti e dice guarda che tagliare a te i biglietti e dice guarda che tagliare a te i biglietti i biglietti e mi hanno fatto ve lo giuro veramente e no ma io faccio molto se mi faccio vedere e a un certo punto dice ma faccio molto ma chi lo giustamente dice documenti e si mette a segnare tutti i dati no quando è bello e buono sono passati 10 minuti che gli hanno segnato tutti i dati vieni un momento che va a mettere la film no a un certo punto quando stiamo per mettere la film i biglietti e i biglietti i biglietti e 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 i biglietti Papua, la prossima te la faccio il biglietto, mi raccomando. Ma la prego mio signore, chiuda un occhio per favore, questa volta non è colpa mica. Non sapevo fosse già timbrato, dannato, glielo giuro non lo faccio più.